Novak Djokovic fa ricorso contro l'espulsione dall'Australia. Dopo il mancato accesso per problemi al visto del serbo al suo arrivo a Melbourne, imposto dai funzionari del paese oceanico, il tennista numero uno al mondo è stato fermato e interrogato per ore dai funzionari della polizia di frontiera aeroportuale. Un giudice di Melbourne, Anthony Kelly, esaminerà in queste ore la sua richiesta. Le regole sono regole e non ci sono casi speciali. L'ingresso con un visto richiede una doppia vaccinazione o un'esenzione medica. Mi viene comunicato che tale esenzione non era in vigore e di conseguenza lui è soggetto alla stessa regola di chiunque altro. Voglio anche sottolineare che alla fin fine questa è responsabilità del viaggiatore. Gioccovici era stato quindi trasferito in un hotel di detenzione governativa in attesa di un volo di rimpatrio ed ora della decisione del giudice. Il visto sarebbe stato revocato poiché il suo staff non ne aveva richiesto un tipo che consentisse esenzioni mediche per non essere vaccinato, dunque in teoria potrebbe richiederne uno nuovo. Il tennista intendeva giocare e difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione degli Australian Open.